Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Potature in corso lungo via Nomentana. Oggi i giardinieri sono al lavoro nel tratto compreso tra Viale 21 Aprile e Via di Sant'Agnese. Sono deviate su percorsi alternativi le linee 60, 66, 82 e 90. Gli interventi anche oggi sono in programma sino alle 18 circa. Sabato pomeriggio a partire dalle 15.15 allo Stadio Olimpico. Spazio al grande rugby con il torneo del 6 nazioni che vedrà sfidarsi Italia e Galles. Lo stadio, lo ricordiamo, è raggiungibile anche con il trasporto pubblico. Per l'occasione Atac potenzierà le linee 32 e 2. Previsto anche uno sconto del 50% sui noleggi di vetture del car sharing Roma che sosteranno nei pressi dello Stadio Olimpico per almeno 90 minuti durante il match. I dettagli su Roma Mobilità. Grazie a tutti.